Ritorniamo a noi, fra due minuti saremo in diretta in radio, in questo momento siamo in streaming sulla pagina Facebook di Radio In, ma tanto è tutto pronto e quindi possiamo iniziare a presentare il nostro ospite. Lorenzo, buongiorno, ci senti? Noi ti vediamo. Buongiorno, sì, vi sento, voi mi sentite? Forte e chiaro. Ciao Lorenzo, è un piacerone davvero averti con noi in Open Day Cinema e parlare appunto del tuo film e sappiamo che hai un aereo per cui non vogliamo assolutamente sentirci responsabili. Ma a te piace questa cosa? No, ma grazie a voi, grazie dell'invito. No, devi sapere che capita spesso di essere, sappiamo che hai un aereo, sappiamo che hai un treno, sappiamo che hai un biglietto per la nave, qualunque, e noi siamo sempre lì. Quindi dobbiamo andare alla sintesi. Sì, no, comunque ora che ci penso mi è arrivato un messaggio proprio su una situazione analoga per domani, da far coincidere proprio con le partenze. Ci sono le coincidenze, normalmente erano fra un aereo e l'altro, invece no, sono fra le nostre interviste e i voli in partenza. Cos'è questa immagine bellissima che abbiamo alle nostre spalle? Mi rubi le battute. Ma le hai messaggi io la chiedo a te? No, la chiediamo a lui. Cos'è? E questo è il nostro poster disegnato a mano dal nostro disegnatore Federico Mele, che è un giovanissimo illustratore di graphic novel che io appunto ho voluto coinvolgere per dare un po' il taste di questo film che essendo ambientato negli anni 90 rimanda un po' ai poster di quando eravamo ragazzi. Quando ero ragazzo io, non certo lei. Bellissimo, bellissime queste immagini. Diamoci qualche istante, facciamo la presentazione ufficiale anche per chi non è collegato in streaming ma ci segue soltanto attraverso la radio perché è finita la canzone e quindi andiamo dall'altra parte. Tre secondi. Avete ascoltato Adele con Someone Like You, ma adesso ci prepariamo a conoscere un altro ospite ed aprire ufficialmente questo appuntamento di Open Day Cinema. Questa volta si fa sul serio, Ivan. Eliana, assolutamente sì, ma che bello quando il nostro studio si colora e ci abbraccia con l'arte, in questo caso la meraviglia della graphic novel che il nostro regista Lorenzo D'Amico ha scelto per presentare il suo film Gli anni belli, lo dicevi, è ambientato nel 94, raccontaci questa storia e poi vedremo il trailer, Lorenzo. Sì, è una commedia estiva, mi è stata appunto qualche anno fa purtroppo per me, il famoso 94 della prima vittoria di Silvio Berlusconi, c'è questa giovane ragazzina romana che vorrebbe starsene appunto a Roma in città a combattere questo nuovo governo con il quale non è molto d'accordo ma trattandosi di luglio viene acchiappata dai suoi genitori e portata nel solito vecchio campeggio che però non è più il solito vecchio campeggio ma spira un'area di rinnovamento contro la quale questa giovane pulsella porterà la evoluzione nel microcosmo di un campeggio appunto che va diciamo così a rappresentare metaforicamente il macrocosmo dell'Italia di quegli anni. La giovane pulsella si chiama Romana Maggiora Vergano 17 anni ma deve fare i conti con due genitori particolari, due figli d'eccellenza della città dello stretto che sono Nini Bruschetta e Maria Grazia Cucinotta ai quali hai affidato due ruoli niente male, il primo è un insegnante di greco e la mamma è una sorta di mediatrice, no Lorenzo? E loro sono una coppia che mi ha fatto il grandissimo favore di prestarsi a fare questi genitori che nel corso della storia affronteranno anche diciamo così il fatto di entrare in quella nuova fase della vita in cui i figli crescono e quindi bisogna un pochino ricominciare, non vedersi più come genitori ma tornare a vedersi come coppia. Io sono stato molto fortunato che essendo due amici storici di mia moglie che è cresciuta a Messina anche se è originaria di Helsinki, cosceneggiatrice del film, essendo cresciuta a Messina è cresciuta con loro e quindi loro si sono fidati di me anche se ero all'opera prima e tutto sommato direi che il risultato li ha lasciati contenti. Bellissima anche la storia nella storia. Ma poi provo a immaginare Ninni che voglio dire spesso interpreta ruoli burberi, incazzosi se si può dire. Beh oddio, sempre un po' burbero è anche qui. E la dolcezza di Maria Grazia Cucinotta che voglio dire hai davvero cucito come un vestito due ruoli splendidi. Vogliamo vedere il trailer nella diretta Facebook? Sì, sai come funziona? Mandiamo la musica in radio, ci sono i boom da bash con l'unica cosa che vuoi. E da qui ci prendiamo lo spazio necessario per poter vedere questo trailer, guardiamolo insieme. Io mi sto muovendo papà, mi muovo contro il sistema, contro il nuovo fascismo celato e non che il popolo bui ha votato alla cieca. E che noi non dobbiamo assolutamente permettere. Sai qual è il risultato? Che a me mi toccherà partire a studiare greco tutta l'estate. Come tutta l'estate? Tutta l'estate. Mamma? Non fa rispondere su tua mamma perché è troppo tante. Ti pareva. Tu genio! Ma benvenuto! Benvenuto, benvenuto, benvenuto! Ma questi stanno fuori di testa. Ci hanno messo i cessi a pagamento. 500 lire per pisciare. E ti informo, caro camerata, che qui vige ancora il libero mercato che tanto piace al tuo padrone. Quindi il signore ha tutto il diritto di proporci la sua merce. Io ti informo, cara compagnuccia, che in questo paese vige anche la proprietà privata, che è una cosa che a voi radica il chic. Piace un sacco anche se fate finta di no. Quindi qua dentro comanda il signor Nicolò. E quindi vuoi comprare qui, sloggia, a casa. Piacere. Sono Eba, la nuova vicina. Adele, la vecchia moglie. Sua moglie. Che la nonna è una gatta morta. Che le è una zocca la riva. Gli anni belli, quelli che vive Elena e che è un po' in termini di proiezione abbiamo vissuto anche noi nel 1994. Trafalo in spiaggia, i grandi gelati. Non ti ci vedo in campeggio, Ivan. Non provare a rifilarmi in questa storia perché non ci credo. Davvero? Ho già fatto. Parliamo di agli belli. Vabbè, tutti sono stati in campeggio una volta nella vita. Anche per questo l'abbiamo preso appunto come microcosmo possibile perché chiunque ha dei ricordi in un campeggio. Torniamo anche in diretta in FM nel frattempo. Abbiamo visto il trailer di Gli anni belli, lo abbiamo visto in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In e lì potete trovarlo anche alla fine della nostra diretta. Però ci siamo tuffati nel cuore degli anni 90 e abbiamo visto delle realtà, delle dinamiche familiari che però cambiano gli anni, cambiano le ragioni, ma forse non troppo. Però queste dinamiche si ripetono, Lorenzo? Ebbè, assolutamente. Perché l'Italia non è poi cambiata tantissimo. Soprattutto io pensavo alla questione dei ragazzi, nel senso che noi abbiamo voluto fare un film che ha come centro il racconto dell'adolescenza, che è sempre un'età difficile della vita in generale, ma è un'età di difficile rappresentazione perché l'adolescente contemporaneo di qualsiasi tempo non ha molto piacere o quantomeno è molto puntiglioso in come viene rappresentato. Allora, un modo di parlare alle giovani generazioni, almeno a mio avviso, è quello di mettere in campo la propria gioventù, cioè di parlare a dei ragazzi attraverso le dinamiche che tutti viviamo a quell'età, però senza la pretesa di rappresentare quello che loro sono oggi. Perché su questo ti sgamano, ovviamente, perché te sei invecchione, che fai di mettere a parlare di Vischelli di cui non conosci tutti i segreti, e che anzi, proprio perché sono giovani, si autorappresentano come quelli che non possono essere letti e capiti da un'altra generazione. laddove un racconto generazionale, nel senso di incentrato sull'adolescenza, ma posto in un'altra dimensione temporale, secondo me viene percepito come molto meno aggressivo. D'altra parte noi siamo cresciuti. Gris, che cos'è se non il racconto dell'adolescenza fatto negli anni settanta, fine settanta, ma che rimanda agli anni cinquanta proprio per lo stesso motivo. Ah, Lorenzo, mi rivedo tanto nelle tue parole, probabilmente perché ho trascorso tanto tempo con i miei figli adolescenti, oggi c'è questa parola boomer, no? Che tu dici vecchioni, ma poi è bello anche ciò che tratteggi nella sceneggiatura del film, quando immagini quella scena dove i due genitori, sempre nello stesso campeggio, si mettono in macchina, caricano questa ragazza, e voglio dire, diventa quasi una proiezione di migliaia di genitori, no? Eh beh, sì, 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 sì. Insomma, mi intriga molto, io non ho ancora visto il film, volevo chiederti appunto che tipo di percorso sta facendo il film, sia in sala che nei festival, presumo. Il film è buonetto su Sky, in realtà già da agosto dell'anno scorso, quindi purtroppo noi siamo usciti in un periodo che era a febbraio del 2022, che eravamo ancora in pieno Covid, quindi diciamo che il percorso... Quando l'avete girato invece? Lo abbiamo girato ancora più in pieno Covid nel settembre del 2020, l'abbiamo girato diciamo nella prima apertura, nel primo momento in cui si siano aperte le gabbie per cinque minuti, noi siamo corsi in campeggio dove per l'altro ci siamo quarantenati, quasi tutto il film è stato girato, cioè qua non è vero, abbiamo girato in diversi posti, abbiamo girato vicino Roma, abbiamo girato a Messina, vicino a Messina, insomma la zona di Torrefaro, un po' o poco, purtroppo per ragioni di tempo, il grosso l'abbiamo girato in un campeggio vicino Catanzaro Lido, dove ci siamo quarantenati, nel senso che ci siamo chiusi là dentro per tre settimane almeno, e nessuno entrava e nessuno usciva. Tamponi continui, eh sì, tamponi, protocollo Covid. E' ancora un momento complicato e questo però ha aiutato anche molto la concentrazione chiaramente, perché stavi solo lì, facevi solo questo, anzi tutti ancora mi continuano a telefonare dicendo quando è che facciamo la serie TV così facciamo tre mesi in campeggio. Ah, alla fine si sono appassionati, altro che portati a forza come la protagonista, loro si sono appassionati. No, per niente, ma che a forza, ma figurati. Beh, in questo momento, Lorenzo, vanno forti le serie sulle tematiche dedicate appunto agli adolescenti, per cui sicuramente assieme alla produzione ci hai fatto un pensierino e sono certo che potresti mettere mano alla scrittura. Stiamo valutando le possibilità, sì. Hai visto, abbiamo anticipato la cosiddetta... Ma non hai detto, ma c'è altro su cui stai lavorando invece? Adesso ho appena finito di montare, invece il film di mia moglie che era coscereggiatrice di questo film, ma lei è più che altro regista, quindi noi lavoriamo spesso insieme scambiandoci anche i ruoli, e quindi abbiamo chiuso, un paio di settimane fa, il suo ultimo film, un disegno molto diverso, nel senso che non è per niente una commedia, un film drammatico abbastanza appregnante. In un minuto, in un minuto soltanto, e poi chiudiamo. Ma vi siete rivisti tu e tua moglie, Ninni Bruschetta e Maria Grazia Cucinotta? Oddio, no, non sono ancora così grande. No, 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 in termini di dialoghi, di interpretazione, non mi riferivo all'età. Ah, beh, no, quello... I siparienti tra marito e moglie. Ci sono dei vistici autobiografici, era questa la domanda? Oh, no, no, non tanto perché non... Diciamo, siamo dei personaggi un po' diversi di base. Bene. Come caratteri. Spesso si trova ispirazione da situazioni familiari e proiettate sul set. E quello psicologo che c'è in te che viene fuori, e lo so, e l'ho capito. Con due giganti come Ninni Bruschetta e Maria Grazia. Forse incorsamente, però. Eh sì, eh sì. Lorenzo, noi ti ringraziamo infinitamente per essere stato con noi. Una grazie a voi. Appunto, ricordiamo che è ancora disponibile Gli Anni Belli, e quindi invitiamo tutti quanti ad andarlo a vedere su Sky. e speriamo di risentirci presto, non appena uscirà magari anche il film di tua moglie e potremo organizzare una chiacchierata con lei. si scambia il ruolo. Ma senz'altro, grazie. E raccontiamo tutto questo. Volerai verso di noi o in uscita dalla Sicilia? Vado, eh no, purtroppo mi devo fare nove ore di viaggio per arrivare a Toulouse, in Francia, per una questione di centro sperimentale. di fatti collega, collega di centro sperimentale. Cioè, abbiamo una presentazione da fare a Toulouse, e quindi ci mandano me, che sono uno dei pochi che parla qualche libro. Viva il CSC! Ti aspettiamo a Palermo, ovviamente. Buon voyage, Lorenzo! Assolutamente. Grazie Lorenzo e Carbaio per essere stato con noi questa mattina. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo. Un altro ospite qui in studio con noi. È già arrivato. Tra poco vi svediamo chi sarà. I consigli di Radio I.